De Merminero Herrar bentrovati. Il titolo del video suppongo che sia stato piuttosto esauriente nell'anticiparvi di cosa parleremo quest'oggi. Partiamo con una domanda da un milione di lire. Cosa spinse una folla di francesi sul finire del 1800 e in una piccola città di provincia a compiere un gesto di irrazionalità collettiva tale da massacrare dei lavoratori stagionali di origine italiana? Vediamo di capire meglio le dinamiche del tutto. I disegni che vedrete in questo video sono offerte dal nostro Simone che come sempre si è offerto per potermi aiutare nella realizzazione del video. Vi consiglio come sempre di andare a fare un salto sul suo Instagram e di seguirlo. Partiamo! Nel senso a noi più noto, il termine pogrom è un concetto che rimanda alle persecuzioni rivolte contro le minoranze religiose, soprattutto quelle ebraiche. Questo nella Russia imperiale a cavallo tra XIX e XX secolo. Nell'agosto del 1893, però, ad Egmont, ridente paesino dell'Occitania, per riportare le parole di Gérard Noriel, esisteva il più grande pogrom di tutta la storia francese, cioè i campi delle saline di Egmont, nei quali gli emigrati italiani furono assaltati da una folla inferocita di francesi. Ciascuna parte italiana e francese fece una strumentalizzazione feroce di quanto accaduto. Dove sta dunque la verità? Da una parte, il Times di Londra, all'epoca, parlò di più di 50 morti italiani. In tempi più recenti ai nostri, la Treccani, invece, nell'edizione del 1929, riportò 400 operai massacrati. Un'esagerazione. Probabile anzi che le vittime fossero al massimo una decina. Ma non è tanto il numero di morti ad essere rilevanti in questo evento, bensì il significato intrinseco che un gesto del genere custodiva. Ad Egmont si condensarono all'estremo grado le miserie dell'epoca. Prima di tutto la conflittualità tra poveri, con da una parte i popolani francesi convinti di vedersi privati ingiustamente delle loro quote di lavoro nelle saline e dall'altra gli stranieri, gli immigrati italiani, legati ad una condizione di vita più disumana che umana. C'era poi l'esaltazione nazionalista della superiorità dei popolani francesi, avvertita come un diritto da sfoggiare per schiacciare la minaccia italiana. E per condire il tutto ci fu persino chi fece leva sulla diffusione di notizie false, che non fecero altro che fomentare la ribellione nelle mura cittadine. Insomma, Egmont fu un miscuglio di razzismo, xenofobia e risentimento popolare della più bassa feccia. Lo stesso mix che si abbatté tra l'altro nell'affare Dreyfus, scoppiato nello stesso periodo storico in Francia. Dopotutto il massacro non fu un caso. Erano quelli gli anni della revanche, in cui l'imperativo della rivalsa contro la disfatta di Sedan alimentava i nazionalismi di personalità quali Paul de Roulette o Georges Boulanger. Era lo stesso periodo in cui l'occupazione coloniale della Tunisia, il rinnovo della triplice alleanza e gli scatti d'orgoglio nazionale del primo ministro italiano Crispi avevano avvelenato i rapporti tra i due paesi. In quel periodo le relazioni dei nostri connazionali con i vicini francesi erano particolarmente tese, caratterizzate da grande diffidenza e aperta ostilità, soprattutto a causa del dibattito sul possibile rinnovo della triplice alleanza con Germania e Austria-Ungheria, un fatto accolto con grande risentimento delle nazioni oppositrici, prima fra tutte la Francia. Ma a dirla tutta, gli italiani che lavoravano in Francia non erano interessati delle questioni geopolitiche. Il loro problema si chiamava lavoro, casa, cibo e familiari da sfumare in patria. Cerchiamo però di inquadrare il fatto da una prospettiva più ampia, perché è ovvio che una folla di francesi non ammazza così per gusto di fare una decina di italiani. Dovevano esserci delle inquietudini molto profonde. Il massacro di Egmore fu il culmine di una tensione sociale derivante da incongruenze strutturali nella società francese e anche europea del XIX secolo. Nel clima infuocato della grande depressione economica del 1873 e nel nervosismo dettato da politiche capitalistiche e da estenuanti contratti di lavoro, per meglio dire di servitù legalizzata, la vita nelle campagne europee si era fatta sempre più precaria. Quando dicono che Egmore fu una guerra tra poveri, una tragedia del lavoro, i commentatori non sbagliano affatto. Come tante altre parti del mondo, anche la Francia fece esperienza del fenomeno dell'emigrazione degli italiani. Nel 1876, sul suolo francese, il registro nazionale contava all'appello circa 165.000 connazionali, che all'epoca costituivano il 17% dell'intera popolazione straniera. A questi andavano aggiunti quei 700.000 lavoratori temporanei, stagionali, che dal Piemonte, in particolare dal Monferrato, e anche dalla Liguria e dalla Toscana, si spostavano in Provenza e Occitania, per trovare nuove opportunità. Il primo problema strutturale fu la massiccia mano d'opera di giovani emigrati, che, non trovando più lavoro nelle campagne italiane, veniva assorbita nelle regioni della vicina Francia. Come disse Napoleone Colaianni nel 1893, gli italiani si infilano dappertutto, nelle cave, nelle miniere, nei lavori agricoli, dovunque c'è un meschino salario da guadagnare. I nostri lavoratori all'estero costituiscono la massa più umile di tutte. Per l'operaio francese, l'immigrazione straniera era una delle cause della miseria e della disoccupazione, una concorrenza. All'epoca c'era persino un detto per definire questa cosa. L'italiano del nord viene in Francia a fare il muratore, quello del sud va in America a fare il gangster. Radicato era quindi nella mentalità operaia e popolare lo stereotipo dell'italiano mangiatore di stipendi, disponibile ad accettare bassi salari e pessime condizioni di lavoro. In sostanza l'esatta immagine che fu tratteggiata nel rapporto Spuller del 1884, un'inchiesta parlamentare alla Camera parigina, nella quale si riportò L'operaio italiano è più docile degli altri. Gli si fa fare tutto ciò che si vuole, abbassa la schiena e tende la guancia per ricevere uno schiaffo. Come uomo trovo la cosa rivoltante. Questi operai non hanno dignità personale. Con gli stranieri poi la diffidenza degenerò facilmente nell'axenofobia. L'axenofobia si intensificò, oltre a causa della crisi economica, in termini concreti, anche attraverso l'uso di epiteti e insulti denigratori nei confronti degli emigrati italiani. I peggiorativi più frequenti erano Babi, cioè Rospi, in dialetto provenzale, che rimandava implicitamente al chiacchiericcio altisonante degli italiani quando parlavano tra di loro, oppure Christos, dovuto all'abitudine di molti italiani di bestemmiare, e ovviamente Macaroni. Nel caso di Egmort, gli assalitori definirono gli italiani come degli orsi, e loro attacco come una caccia. Un evidente rimando al comportamento bestiale che i francesi, di allora, riscontravano negli emigrati. All'esasperazione nazionalista vi era poi tra la popolazione una sorta di psicosi dell'invasione. È il pericolo di essere conquistati dagli stranieri. Un pericolo sbandierato a più riprese dalla stampa nazionalista. Fu il caso di articoli come quelli del Memorial Dex, quando nel 20 agosto 1893 si riportò Gli italiani cominciano a esagerare con le loro pretese. Presto ci tratteranno come un paese conquistato. Faranno concorrenza alla monodopera francese e si accaparreranno i nostri soldi a vantaggio del loro paese. Sempre secondo il pamflet, l'alta presenza italiana non era casuale, ma era dovuta anzi alla volontà nascosta del governo italiano di trasformare la regione provenzale in una sua provincia periferica. Le farneticazioni arrivavano al punto da sfruttare titoli sensazionalistici come invasione o barbari immigrati, per fare leva sull'angoscia e la paura del popolo. Stando alle fonti, nel meridione di Francia la xenofobia era più accentuata che nel resto del paese. Ma perché? L'alta concentrazione della presenza straniera giocava certo un ruolo principale, ma questo dato va inserito nella situazione specifica del Mezzogiorno francese, che in quegli anni versava in una grave crisi di identità, dovuta all'imposizione del capitalismo parigino a danno degli equilibri locali. È così che, nell'esaltare la xenofobia, i francesi del sud cercarono di preservare la propria identità messa a dura prova dalle tensioni interne a livello sociale e dalla crisi economica, soprattutto in un settore chiave nel sud come quello della produzione vinicola e della sua mancanza di braccianti agricoli. Per quanto riguardava il contesto di Egmort, la produzione di quello che era chiamato l'oro bianco, cioè il sale, a metà ottocento era passato dalle mani di piccoli proprietari locali a quelli organizzati della compagnia del sale del Mezzogiorno, finendo così per diventarne suo monopolio esclusivo. Per aumentare i ritmi di produzione, i caporali assoldati della compagnia imposero turni massacranti ai sottoposti, in cambio di un salario che rasentava la miseria. 12 franchi al giorno per un lavoro svolto in una cornice disumana. L'affa torrida, gli alloggi malsani, la mancanza d'acqua con cui potersi togliere il sale di dosso, la malaria endemica nelle paludi della zona e le piaghe ai piedi per il contatto col sale facevano il resto. La raccolta del sale era un business molto lucroso per la compagnia e d'estate attirava numerosi lavoratori dalle regioni limitrofe, in particolare centinaia di vagabondi francesi. I cosiddetti Trimar, che venivano smistati dai capi reparto nei gruppi di immigrati piemontesi e toscani. Il binomio vagabondi francesi spesso scaltri e provocatori, e italiani frustrati e impoveriti, fu una bomba a orologeria. Perché col tempo le tensioni fecero emergere sempre di più incomprensioni, insulti e prevaricazioni. I Trimar accusavano gli italiani di rubargli il lavoro. Mentre gli italiani accusavano i Trimar di non far nulla tutto il giorno, di bighellonare, abbassando così la paga giornaliera dell'intera squadra. Fu in questo clima che il 16 agosto 1893, nella salina della Fangouze, di prima mattina scoppiò un litigio per motivi futili. Seduti sulla sabbia c'erano circa 200 italiani, davanti a loro c'erano invece un centinaio di francesi. Alcuni dei francesi buttarono della sabbia addosso ai piemontesi mentre stavano mangiando. Un torinese, descritto come maneggiatore esperto del coltello e dal carattere irascibile, si alzò per pulire il fazzoletto in un secchio d'acqua dolce. Un bene prezioso, soprattutto visto e considerato che era pieno agosto. Alle rimostranze di un francese e alla risposta dell'italiano me ne infischio di te e di tuoi compagni, la reazione dei francesi fu violenta, ma il torinese riuscì a tenere a bada gli assalitori col coltello, minacciandoli dalla distanza. Più tardi, durante la pausa pranzo, scoppiò un'altra rissa. Secondo un operaio italiano, un francese aveva lanciato una pietra nella baracca dove gli italiani si erano fermati a mangiare. Usciti dall'alloggio, alcuni di questi inseguirono i francesi fino alla postazione del guardiano della salina. Alla baracca del guardiano gli italiani lanciarono pietre e pezzi di vetro e, presero abbastonate, la porta al grido di viva l'Italia, abbasso la Francia. Come riportato nell'edizione del 28 dicembre 1893 di Le Figaro, all'arrivo di un giudice di pace scortato da tre gendarmi, si riuscì a portare momentaneamente la calma, ma ormai l'incendio era stato innescato. Alcuni trimar francesi, durante l'inseguimento, corsero in città portando notizie false dell'accaduto agli abitanti. I fatti furono deformati, macchiati di un tono d'esagerazione. Si parlava di attacchi a tradimento, di morti, quando in realtà si trattava solo di sette lievi feriti. Fu così che si sparse la voce secondo cui un gruppo di italiani aveva ucciso dei francesi senza un valido motivo. La rabbia prese il sopravvento della razionalità e nelle prime ore del pomeriggio iniziò la cosiddetta caccia all'orso, al grido di morte agli italiani. Per le strade della città, la folla aggrede chiunque fosse sospettato di essere italiano. Alcuni di questi trovarono rifugio nelle strade private o nelle campagne. Altri, invece, si chiusero nel panificio Fontaine, in pieno centro, con rischio di essere dati alle fiamme insieme alla struttura. L'inizio delle ostilità fu agevolato inoltre dal mancato intervento delle autorità militari francesi che, nonostante la tempestiva richiesta della gendarmeria via telegrafo alla prefettura, sarebbero arrivate solo a fatti compiuti il giorno successivo. Un'altra banda, però inebriata dalla follia collettiva e surriscaldata dal vino, alle prime ore del 17 agosto si era già diretta verso la salina Fangouze. Il caporale della salina, un certo Cable, allarmato dalla situazione, fece rinchiudere gli italiani in una baracca per nasconderli ed evitare che venissero sorpresi uno ad uno dalla folla. Ma sotto gli occhi passivi degli spettatori, gli assalitori circondarono la capanna e tentarono di sfondare il tetto e la porta. Riuscendo ad evitare il massacro, Cable annunciò che gli 80 operai italiani sarebbero stati scortati dalla gendarmeria alla stazione e rispediti in Italia col primo treno. Fu l'unica cosa che poté dire per poter calmare gli animi. Quando il corteo però si avvicinò alle mura cittadine sotto il sole cocente di quella mattina di agosto, gli italiani furono intercettati dalla banda infuriata che la sera prima si era formata in città, che era capitanata da un certo Joseph Constant, un noto bracconiere della zona. Come riportato da un osservatore, gli assalitori gridavano «Italiani assassini, ci rubate il pane». Appostato tra le vigne, col fucile in spalla, Joseph Constant sparò diversi colpi sugli italiani impanicati dai forconi della folla. Un operaio toscano, Angelo Pistelli, raccontò «I contadini che erano a guardia dell'uva si misero a inseguirci con le forche e coi fucili. Un mio amico cadde colpito alla schiena da una pallottola e mi gridò prima di morire, saluta per me e mia madre». Non feci in tempo a capire altro, vidi la gente calpestarlo. Bloccati tra le mura della città e un cancello chiuso, il corteo di italiani rimasti si trovò circondato dalla folla. Come scritto nel resoconto del procuratore generale, ci fu un vero e proprio massacro. Come bestie portate al macello, gli italiani erano sdraiati sulla strada, sfiniti. Aspettavano la morte, storditi sotto le grida dei francesi che urlavano «Di voi faremo salsicce». Entrando in paese, dopo altre difficoltà, tra cui le guardie che non volevano aprire la porta, il capo dei gendarmi condusse i sopravvissuti all'interno della caserma e i feriti nell'infermieria della struttura. Era la fine del dramma. Davanti alle porte della città, i francesi affissero un comunicato sul quale era stato scritto «Gli operai francesi hanno avuto piena soddisfazione. raccogliamoci per curare le nostre ferite e, recandoci al lavoro, dimostriamo come il nostro scopo sia stato raggiunto e come le nostre rivendicazioni siano state accolte». Viva la Francia! Viva Egmort! Conosciamo l'identità di 8 di 9 morti ufficiali. 5 sono piemontesi, uno ligure, un altro toscano e l'ultimo un lombardo. Il processo di 4 giorni imbastito a seguito degli eventi fu niente meno che un processo farsa, che non fece altro che incrementare le tensioni diplomatiche e sociali tra i due paesi. Il giudice diede l'assoluzione generale a tutti gli imputati, sotto uno scroscio di applausi e con le grida di esaltazione della folla che era venuta ad assistere alla sentenza. E' bene non dimenticarci di quanto accaduto ad Egmort, di quella caccia all'uomo fomentata da un mix di depressioni economiche, incongruenze sociali e giustificazioni identitarie con cui usare l'arma della nazionalità per legittimare la violenza di quell'eccidio. Un grazie enorme all'aiuto di Simone per i disegni, senza di lui questo video non avrebbe assolutamente visto la luce. Grazie anche ai miei carissimi Patreon per il sostegno e la fiducia che ripongono nel progetto NovaLexio. A presto ragazzi, per Aspera ad Astra. Grazie a tutti.